È quasi arrivato il momento di rientrare in classe. Quest'anno la prima prova è la sicurezza. C'è un test volontario che tutto il personale scolastico può fare. È il test sierologico. È gratuito e veloce. Si fa presso il medico di famiglia. Se è negativo, si può andare a scuola. Se è positivo, occorrerà fare anche il test molecolare. L'assenza sarà sempre giustificata. Scoprite di più su istruzione.it slash rientriamo a scuola.